Quindi sono due i piloti Ducati già sotto contratto per il 2025 e per il 2026, Pecco Bagnaglia ha rinnovato per due anni prima del Gran Premio del Qatar, Firmin Aldeguer è arrivato ieri l'annuncio del suo accordo con Ducati fino al 2026 con addirittura un'opzione per i due anni successivi. Cosa significa questo? Significa che comunque vada uno dei piloti attualmente in Ducati l'anno prossimo non correrà più con una Ducati, questo è evidente perché le moto in pista sono otto, i piloti che hanno già firmato sono due, e questo significa che ne rimangono sette senza contratto e quindi ovviamente uno di loro non sarà più in Ducati nel 2025. Ecco, questa è una valutazione importante, una considerazione importante da fare, un pilota, uno degli attuali piloti Ducati sa o saprà in futuro che nel 2025 non ci sarà posto per lui. Chi è più a rischio? Allora, andiamo a fare un po' di considerazioni, questa è proprio una notizia in prima fila che merita, io l'avevo detto perché qui vengono fatte delle considerazioni, non ci sono dei fatti concreti ma è giusto, credo che sia giusto fare delle considerazioni su quello che potrebbe essere il futuro in casa Ducati. Allora, la prima considerazione da fare naturalmente è sul team VR46, quale futuro per il team VR46? Allora, sappiamo benissimo che il team VR46 ha un'opzione con Ducati per il 2025, un'opzione che a detta di Alessio Salucci, il direttore sportivo, il team manager del team VR46 è a favore della squadra, però il rinnovo non è così scontato, anzi il rinnovo è abbastanza complicato. Intanto ricordiamo cosa ha detto Gigi Daligna, il venerdì del Gran Piero del Qatar ai microfoni di Sky, ha detto sarà molto difficile che nel 2025 Ducati possa mantenere quattro squadre. Ecco, questo è un aspetto importante da sottolineare. Gigi Daligna ha già fatto sapere che probabilmente nel 2025 saranno tre le squadre ufficiali, le squadre con moto Ducati. Allora, il team Gresini ha già firmato il rinnovo con Ducati per la stagione 2024 e 2025, quindi il team Gresini ha posto. Il team Pramac è legato a doppio filo con Ducati, è vero che Campinotti è meno felice rispetto al passato, c'è stato qualche attrito a fine 2023 per la questione markets, ma non solo. Ecco, i rapporti non sono più idilliaci come una volta, però è chiaro che il team Pramac rimane il punto di riferimento di Ducati, rimane l'unico team che potrà avere moto ufficiali nel 2025 e la destinazione di Fermin Aldegher sembra scontata, sembra scontata che sia proprio quella del team Pramac. Ecco, allora, cosa succederà al team VR46? Allora, questa è la prima variabile. La prima variabile è capire se il team VR46 effettivamente continuerà con Ducati, oppure se cambierà per andare in Yamaha. E questo cambia molto perché se il team VR46 dovesse andare in Yamaha, ecco che si perderebbero altri due posti per i piloti Ducati. E quindi questa è una variabile molto importante. Allora, andiamo a vedere i piloti del team VR46 di Gian Antonio. Di Gian Antonio è sicuramente a rischio. Io dico che però ha un 30% di possibilità di rimanere in Ducati. Dipende molto dalle prestazioni, naturalmente come per tutti i piloti dipende molto dalla prestazione. Ma Di Gian Antonio, a differenza di Bezzecchi, che poi andiamo ad analizzare, Di Gian Antonio potrebbe anche conquistare un posto in un'altra squadra Ducati, magari nel Team Resini. Perché no? Perché il Team Resini, ricordiamo che ha due piloti, entrambi in scadenza di contratto, come peraltro anche il Team Pramac. Ecco, io credo che Di Gian Antonio, se dovesse continuare a fare bene, come ha fatto a fine 2023 e come ha fatto in parte in Qatar, ecco, io credo che Di Gian Antonio possa però conquistarsi la riconferma, conferma in qualche maniera in Ducati per il 2025, che sia nel Team WR46 o che sia in un'altra squadra c'è questa possibilità. Però diciamo che sicuramente è a rischio. Io però credo che Marco Bezzecchi sia molto più a rischio di Fabio Di Gian Antonio. Io ho messo che ha soltanto il 20% di possibilità di rimanere in Ducati. Ecco, io credo che la decisione di Marco Bezzecchi, che io personalmente ho anche condiviso e appoggiato, di rimanere nel Team WR46 invece di andare nel Team Pramac, come gli era stato proposto dall'ingegnere Gigi Dalinia, ecco, in qualche maniera però comprometta questa decisione. Io credo che forse, ripeto, forse, potrebbe compromettere il suo futuro in Ducati. Io credo, ma questa è soltanto una sensazione, che Gigi Dalinia non sia stato così contento della decisione di Bezzecchi di rimanere nel Team WR46. E io quindi penso che la possibilità che Marco Bezzecchi rimanga in Ducati anche nel 2025 è legata soltanto alla possibilità, all'eventualità che il Team WR46 effettivamente vada avanti con Ducati. Ecco, quindi sicuramente una posizione non facile quella di Marco Bezzecchi, che oltretutto sembra faticare molto con la GP23 e la mancanza di risultati, naturalmente potrebbe essere assolutamente compromettente per il suo futuro con la moto, con la Desmo 16 GP. Passiamo al Tingresini. Allora, il Tingresini, come detto, ha già rinnovato il contratto con Ducati per il 2025. Io credo che però Alex Market sia a rischio, anche se il Tingresini avrà la Ducati nel 2025. Io ho messo il 25% di possibilità che rimanga nel Tingresini. Io credo che sia l'unica soluzione per Alex Market. Io credo che lui non avrà alternative nel 2025 o rimane nel Tingresini, oppure non credo che uno degli altri team Ducati sia interessato ad Alex Market per vari motivi, a meno che, naturalmente, come sempre, ripeto, a meno che non si mette a vincere gara a ripetizione, io però credo che il futuro di Alex Market in Ducati è legato a doppio filo al Tingresini e potrà rimanere in Ducati soltanto se Gresini lo confermerà per la prossima stagione. Nella prima stagione in Ducati non ha fatto male. Alex Market, anzi, si è comportato bene. Insomma, è un Alex Market che comunque ha fatto vedere un buon potenziale. L'inizio non è stato così esaltante, però ha la possibilità di rimanere in Ducati, ma è comunque a rischio. Passiamo a Mark Markets. Mark Markets, io dico, decide lui. Decide lui e io gli do 50% di possibilità di rimanere in Ducati. Io credo che lui sia uno di quei piloti che si gioca il posto nel team ufficiale a fianco di Bagnaia e tutto nel caso di Markets ancora di più dipende dai risultati perché io sono convinto che se Markets sarà effettivamente competitivo, come io credo, da qui alla fine della stagione, se addirittura si giocherà il Mondiale, ecco, io sono convinto che lui rimarrà in Ducati. Come ha detto bene anche Francesco Guidotti, domenica sera, sempre ai microfoni di Sky, al termine del Gran Premio del Qatar. Lui ha detto, è chiaro che per KTM il sogno sarebbe avere Markets a costa, ma secondo Guidotti è anche molto difficile che Mark Markets possa lasciare la Ducati. Se Markets dovesse essere competitivo, sarà competitivo, ripeto, come io mi aspetto da lui, io credo che Mark Markets rimarrà in Ducati e si contenderà il posto nella squadra ufficiale. Quindi secondo me Mark Markets ha il 50% attualmente di rimanere in Ducati. Passiamo al Team Pramac. Team Pramac, che come detto, è legato a doppio filo con Ducati, anche per il 2025, anzi senza teoricamente, cambierà un po' la situazione nel Team Pramac perché, da quello che so io, nel 2025 non avrà più due moto ufficiali, ma potrebbe avere una moto 2024 e una moto 2025. La moto 2024 potrebbe essere destinata ad Aldeguer, è quella la soluzione naturale per un debuttante, avere la moto dell'anno precedente in un team satellite di tutto rispetto, molto vicino alla squadra ufficiale. Ecco, questa sarebbe la soluzione ideale. Comunque, ripeto, da quello che so io, Pramac nel 2025 avrà una moto ufficiale e una moto satellite. È chiaro che Morbidelli in questo momento è molto a rischio. Io gli ho dato solo il 15% di possibilità di rimanere in Ducati. È anche una situazione strana quella di Morbidelli perché le sue percentuali sono basse non per mancanza di risultati, siamo soltanto alla prima gara, ma perché Morbidelli viene da stagioni difficilissime e purtroppo l'incidente durante gli allenamenti con la Panigale a Portimao sta incidendo moltissimo sul suo cammino in Ducati. Ecco, è chiaro che Franco Morbidelli per tenersi quel posto lì deve arrivare a certi risultati. il miglioramento che si è visto in Qatar sottolineato da Gino Borsoi tra la sprint e la gara in termini di distacco rispetto al primo fa ben sperare per il futuro. Io sono convinto che Franco Morbidelli sia un pilota molto forte e in grado di arrivare a certi risultati, però è chiaro che lui è uno di quelli più a rischio per il posto in Ducati nel 2025. Passiamo al suo compagno di squadra Jorge Martina Martina rimane in Ducati soltanto se andrà in Ducati ufficiale. Questo l'ha detto lui, l'ha sottolineato Gino Borsoi Gino Borsoi l'ha detto più volte, l'ha detto anche nella diretta con Moto.it il cammino di Jorge Martina con il team Pramac è arrivato alla conclusione come è normale che sia perché Jorge Martina vuole una moto ufficiale, vuole non una moto ufficiale, vuole una squadra ufficiale. È chiaro che un Martina efficace come quello del 2023, come quello che si è arrivato a giocare il titolo mondiale fino all'ultima gara, ma anche come quello strepitoso nella sprint del Qatar, ma comunque efficace anche in gara e sul podio, è chiaro che questo è un pilota a cui è difficile rinunciare, è molto difficile rinunciare, però io continuo a pensare che a parità di risultati o comunque con un Marquez molto in forma, Gigi Dalinia forse preferirebbe Mark Marquez a Orge Martina. Questa è una mia sensazione basata così sull'esperienza che ho e sulle informazioni che ho raccolto nel pad, ma è soltanto una sensazione, però Orge Martina come si fa a rinunciare a uno come Orge Martina? È chiaro che è molto difficile, ma Orge Martina non accetterebbe un altro anno di team Pramac, questo è molto chiaro, quindi io considero che lui al momento ha il 50% di possibilità di rimanere in Ducati. E chiudiamo con Bastianini, Bastianini io credo che sia molto a rischio anche Bastianini, Bastianini purtroppo ha compromesso tutto il 2023 con l'infortuna nella prima gara di Portimaro, ma non solo, anche con una difficoltà di adattamento alla GP23, con la GP24 sembra sicuramente molto più a suo agio, però l'inizio in Qatar non è stato esplosivo come ci si aspettava, perlomeno come io mi sarei aspettato dopo i testi invernali, ma anche dopo il venerdì di prova in Qatar. Ecco, Enea Bastianini io credo che sia molto a rischio per conservare quel posto lì a fianco di Bagnaglia, io credo che lui nelle prossime 5-6 gare diciamo fino al più tardi al Mugello, lui debba essere costantemente protagonista, giocarsi costantemente il podio e possibilmente qualche vittoria. Ecco, io credo che Bastianini sia molto a rischio, quindi ricapitolando, secondo me i piloti più a rischio per il 2025 in Ducati sono proprio tre piloti italiani, Bastianini, Bezzecchi e Morbidelli. E questa è la notizia in prima fila di oggi, io sono lo ZAM, vorrei sapere la vostra opinione. in prima fila Grazie a tutti.